Ciao a tutti, è giovedì sera, siamo ad Ecomondo 2017. È stata una lunga giornata piena di soddisfazioni, sono molto orgoglioso come sempre di rappresentare il gruppo Ecoridania. Quest'anno è stato un anno molto importante, è il trentesimo anno di vita e sono successe tante cose. Il nostro stand quest'anno rappresenta un po' la nostra anima, quello che vogliamo essere, perché abbiamo voluto rappresentare una stazione di servizio di un lungo viaggio. Troverete tante citazioni che proprio parlano di viaggi. Stiamo percorrendo un viaggio meraviglioso, un viaggio imprenditoriale, un viaggio pieno di sorprese che ci hanno cambiato, ci hanno fatto diventare grandi. e che speriamo ci sorprendano nel futuro. Siamo pronti, dopo domani, dopo che finirà la fiera, a riprendere il nostro viaggio. Non a caso ci sono tante moto nel nostro stand e speriamo di salire sopra le moto e cominciare questa nuova cavalcata, dopo aver fatto questa sosta, che è una sosta dove distribuiamo idee e condividiamo momenti di piacere. Io non posso far altro che ringraziare il mio staff, le persone che lavorano con me, che hanno fatto sì che tutto questo si realizzasse. Sapete tutti il mio percorso, la mia storia, la storia di un piccolo imprenditore che un giorno si è svegliato e ha deciso di crescere. E ho trovato durante questo viaggio tanti amici che mi hanno accompagnato e mi hanno portato qui, in questo posto che ci identifica. Siamo diventati il primo operatore italiano nel nostro settore. Stiamo provando a diventare uno strategico nel mondo dei rifiuti più in grande. Molti ci apprezzano. Io provo a rappresentare la mia comunità, le mille persone che lavorano con me. e spero di farlo degnamente. Spero di avere la forza e il coraggio di fare ancora di più e di far crescere e di consolidare sempre di più questo sogno che è un sogno di tutti. Spero che passiamo tutti un felice Natale, un futuro radioso. Grazie, ciao a tutti.